A Pescara, gran folle e assembramenti nel centro, proprio nel giorno in cui il sindaco, come abbiamo già detto, appunto a causa dell'aumento dei contagi, ha disposto la chiusura delle scuole. Tante le persone a passeggio lungo le vie dello shopping, come vediamo appunto da queste immagini scattate pochi istanti fa, presi da salto i locali della zona di Piazza Muzzi, distretto food, beverage e più grande d'Abruzzo. In quella zona c'è stata anche una rissa, poi sedata dalle forze dell'ordine. Tre giovani saranno denunciati, uno è rimasto ferito. Sanzione e chiusura per un locale che ha consentito l'accesso a più clienti di quelli consentiti. Da metà pomeriggio hanno preso il via agli aperitivi, andati avanti fino a poco dopo le 18, quando le forze dell'ordine hanno chiesto ai clienti di lasciare tavoli. Tanti gruppi di ragazzi, spesso con mascherina abbassata, ancora in piazza, dopo l'orario di chiusura delle attività. In Abruzzo, oltre al divieto di assembramenti, da oggi vige anche il più restrittivo divieto di aggregazioni per effetto di un'ordinanza firmata ieri dal presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. Fa impressione vedere queste immagini brutte, commenta il referente regionale per l'emergenza, Alberto Albani, a capo della Task Force per il coronavirus a proposito della folla in centro.